Cosa ho appena visto? Oggi è uscito il primo teaser trailer di un film Minecraft, ed è questo il titolo, un film Minecraft adattamento a Minecraft Movie. Per quanto mi riguarda partiamo già bene dal titolo. Quella di oggi non sarà una reaction al trailer, anche perché l'ho visto tre o quattro volte già, proprio per fare questo video, che non sarà neanche un'analisi, quanto più dei primi pareri. Perché comunque questo è sì, solo un teaser, quindi pochissimo, non sappiamo neanche di che cosa parlerà il film, però è un primo sguardo a quello che vedremo, quindi si possono già fare le prime speculazioni e si possono dare i primi pareri, cosa che appunto farò oggi. E no, se non si fosse capito non sono positivi. Premessa assoluta e dovuta, io non sono il fan numero uno di Minecraft, ho dei ricordi bellissimi da piccolo, non ci gioco da tantissimo tempo, non so nulla della lore che si è andata a creare negli anni, tra cose canon e cose fanon, però qualcosina quella la so anche. E devo dire che comunque, avendo giocato in passato a Minecraft, questo film mi metteva un po' di curiosità, anche per il cast, che vede Jason Momoa in un ruolo sconosciuto almeno per ora, ma soprattutto Jack Black nel ruolo di Steve. E' vero curioso di scoprire come l'avrebbero trattato e come l'avremmo visto nel film. Bene, oggi è uscito questo minuto e venti più o meno di teaser trailer e... Beh, che schifo. La cosa che mi fa stare un po' tranquillo è che, probabilmente non mi farà avere una shitstorm enorme nei commenti, è che anche la fanbase di Minecraft sembra non aver apprezzato tantissimo questo teaser trailer, però io sono anche qui per spiegarvi per quale motivo questo trailer non mi è piaciuto quasi per nulla. Prima di iniziare però vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social, Instagram con i vari format, c'è anche il link di TikTok e di Letterboxd, dove pubblico mini recensioni dei film di cui molto probabilmente non parlerò, almeno non un video lungo, e c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e non solo, dove trovate tantissimi design per magliette, poster, tazze, zaini, calze, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba, e con il codice ILPENSIERO4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Voi scegliete il paio di calze che vi piace di più, lo inserite nel carrello e queste saranno regalate dal sito e dal mio codice. Ma adesso passiamo a parlare del teaser trailer, ripeto che non sarà una reaction, nemmeno un'analisi approfondita, solamente un veloce video pareri riguardo le immagini che si vedono. Ripeto anche che non sono acculturato della lore di Minecraft, quindi non potrò fare parallelismi con il videogioco, non saprò nemmeno possibilmente nominare alcuni elementi, per esempio questi cosi, di cui non ricordo assolutamente il nome, però mi ricordo che quando ci giocavo io già erano presenti tra le uova dei mob. In ogni caso, un film di Minecraft che è titolo di merda, inizia con questo portale. Ho visto il trailer anche con qualcuno che ne sa di più di me su Minecraft e non è il colore esatto di quelli che si conoscono nel gioco, quindi credo che questo sia un portale tra il mondo reale e Minecraft. Infatti questo film sembra molto un Jumanji, solo che con i cubi è tutto fin troppo colorato, c'è anche Jack Black. Però comunque dopo questo portale ci viene appunto presentato subitissimo questo mondo fatto di cubi, che mi ha ricordato molto quello che si vede nel live action di Sonic, anche proprio per questa forma, questo monte. E poi ci vengono presentati questi quattro personaggi che credo siano i protagonisti del film, quindi non aspettiamoci, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, in questo momento da questo trailer sembra che non sarà Steve il protagonista del film, non sarà Jack Black, bensì Jason Momoa con questi tre ragazzini, o meglio, ora che lo guardo bene, due ragazzini e una donna. Quello è Jason Momoa. Non lo so, sembra uscito dalla terza stagione di Stranger Things, prodotta però dall'Asylum, non da Netflix. Mica, il tracollo brutto. E poi Pecora Rosa, in CGI. Come il 99% di questo film, probabilmente solo gli attori sono realmente presenti in questo set costruito con blue screen vari da sostituire in post. E i personaggi si vede fin da subito che non sono realmente lì, sembra tutto veramente fin troppo finto. Contando soprattutto il fatto che se si cerca questo realismo nella costruzione di vari oggetti, gli alberi sono molto realistici, almeno solo nel materiale, non nella forma, anche gli animali cercano di somigliare un po' alla realtà, però cubici. Questa pecora è cubica. È veramente orribile. Vediamo appunto anche i mob di cui ho parlato prima. Io veramente non riesco a concepire perché abbiano deciso di presentare questo film in questo modo, con effettivamente la luna quadrata. Secondo me perde ogni singolo minimo senso di credibilità, anche la sospensione dell'incredulità che questo tipo di film richiede, naturalmente. viene meno ad ogni inquadratura di questo trailer, almeno per quanto mi riguarda, questa è sempre un'opinione personale. Effettivamente però, tralasciando sempre il Jason Momoa anni 80 Scrauso, le costruzioni con il tavolo da lavoro ci può anche stare. Io credo effettivamente che questo film sarà proprio come Jumanji o ancora come Space Jam, perché queste sono sempre solo mie speculazioni, non so se è stato detto ufficialmente, ma non credo, perché finora è uscito solamente questo teaser e il poster, i personaggi compreso Jason Momoa potrebbero provenire dal mondo reale in cui magari Minecraft è un videogioco esistente e loro come in Jumanji o come Space Jam entrano in quel mondo, conoscendone magari alcune meccaniche, però questo poi andrebbe in qualche modo a contraddirsi con l'incontro con Steve che nel trailer avviene. Non lo so, vedremo magari con il prossimo trailer o con direttamente il film ad aprile. Niente, non ce la posso fare a pensare a questo film come un film live action, un film Minecraft, perché, beh, è CGI, solo CGI. E possiamo anche dire, almeno per questo teaser, molto mediocre. Per favore smettete di inquadrare Jason Momoa. Potevate farci vedere semplicemente il Creeper che tanto fa comunque cagare come gli altri mob, anche se è di meno, perché è comunque un elemento inesistente nella realtà e che non suona tantissimo con l'immaginario perché non abbiamo un Creeper nella realtà. Ed ecco Steve, Jack Black, che sarà sicuramente un personaggio secondario, una spalla comica a questi quattro personaggi di cui per ora non me ne frega assolutamente nulla, anzi, li odio già. E ragazzi, ve lo posso giurare, questo teaser mi ha ricordato tantissimo. Sarà forse per l'ambientazione, sarà per ciò che si vede, sarà anche possibilmente per la saturazione al massimo che rispetta la tradizione perfetta dei video di Minecraft su YouTube Kids, ma mi ha ricordato tantissimo i film per ragazzi e per famiglie di Robert Rodriguez, ovvero gli Spy Kids o Sharkboy e Lavagirl, sicuramente non dei film di cui andar fieri, e credo proprio che anche un film Minecraft, continuerò a chiamarlo così perché è così che l'hanno chiamato, sarà quel tipo di film solo che magari con un budget leggermente superiore. Jack Black, credo che forse tu sia l'unico motivo per cui un giorno forse andrò a vedere questo film in sala. Davvero inquadrature fintissime che mi fanno in qualche modo rimpiangere i peggiori film della Marvel. Non sono per niente lì questi personaggi, possibilmente non sono nemmeno assieme, è un film per ragazzi, ragazzi, bambini, diciamo, non si fanno assolutamente questi problemi, ed era proprio questa la mia paura riguardo un film di Minecraft, anzi un film Minecraft, che ci si concentrasse solo sull'utenza attuale che il videogioco ha, quindi quella dei bambini, sicuramente ci saranno riferimenti che potranno capire solo gli OG, di cui non faccio parte, o meglio sì, ci giocavo tantissimo tempo fa, ma ho smesso da tanto e non sono mai stato un grandissimo fan. E per concludere il trailer, comunque vabbè, un lama, per la scena comica così, da far ridere, un lama ovviamente quadrato, raga, che teaser veramente penoso, non mi fa venire per nulla voglia di andare a vedere il film, anzi, più lo guardo, più credo che non andrò in sala a spendere i soldi per questo, un film Minecraft, e ragazzi, sì, possibilmente qualche commento negativo, qui sotto lo troverò, dei fan hardcore, del videogioco, però me ne potrei anche fregare, io ho cercato di dare le mie spiegazioni più personali possibili, ma anche qualcosina di, diciamo, oggettivo, perché visibilmente è veramente mediocre questo teaser con gli effetti speciali, o meglio, gli effetti visivi, e la ricostruzione del mondo in CGI, però fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto, perché il video di oggi finisce qui, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok e Letterboxd, c'è anche il link di Pampling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, è caduta la luce? Colpa di Erebrine? Stavo dicendo, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!